Musica Un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Bigi Come sempre ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Toscana Oggi, il settimanale delle diocesi toscane, che questa settimana in primo piano, in apertura, propone il tema delle carceri, un tema importante soprattutto per questa regione, che di fatto è una regione carceraria, con la presenza di ben 18 istituti di pena. Ma ne parleremo più avanti nel corso di questa nostra rassegna stampa. Segnaliamo che in prima pagina anche l'invito al convegno ecclesiale nazionale in programma nel 2015 a Firenze, l'invito che viene dal promotore, dal gruppo preparatorio al convegno stesso. Ma poi Riccardo, anche un altro argomento in prima pagina questa settimana. Sì, perché nell'editoriale Romanello Cantini si occupa del caso Pribche, che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi. Romanello Cantini da storico ne parla affrontando un punto di vista, un aspetto particolare di questa vicenda. Prende spunto dal cosiddetto testamento, l'intervista video, in cui Pribche ha raccontato quel giorno alle fosse ardeatine, sostenendo che di aver soltanto obbedito agli ordini. Cantini entra dentro questa vicenda, dicendo che in quell'orrore, in qualche modo si trovarono coinvolti sia le vittime che i carnefici. E di questa vicenda ne parla invece da un altro punto di vista anche Andrea Drigani, da docente di diritto canonico, che affronta invece nelle pagine interne del giornale il tema dei funerali. Spiega qual è in realtà il senso cristiano del ESEEC, che quindi argomenta quella che era stata la scelta iniziale, la proposta del vicariato di Roma, ovvero sia quella di celebrare i funerali nella casa privata di Pribche, che è una proposta che poi è stata rifiutata dall'Avvocato. E quindi questo poi ha dato origine a tutte quelle polemiche di cui purtroppo abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi. Dicevamo dunque del tema in primo piano questa settimana, quello delle carceri. Lo affrontiamo con un articolo di Giuseppe Ansani, che è un magistrato che affronta il tema del dibattito tra indulto e amnistia, di cui si sta parlando in questo periodo. Fra l'altro chiedendo che non si scherzi su questi temi, perché chi soffre è dietro le sbarre. Quindi è inutile creare illusioni e detenuti se poi non si può mantenere in qualche modo la parola. Ansani però mette in rilievo la situazione di estrema difficoltà, di allarme rosso che vivono le nostre carceri, a causa soprattutto del sovraffollamento. E parla di un richiamo che probabilmente arriverà presto da parte dell'Europa. Ci condannerà perché il nostro sistema punitivo ha scavalcato di gran misura la soglia della crudeltà. Questo è quello che afferma con molta forza Giuseppe Ansani. Quindi gravi problemi all'interno del carcere. Segnaliamo però, come sempre, è giusto fare non solo gli aspetti negativi, segnaliamo anche gli aspetti positivi. Segnaliamo in questo caso tre iniziative importanti a favore dei detenuti che stanno accadendo in tre carceri toscani. Il primo caso riguarda Massa, dove è stata inaugurata una ludoteca per gli incontri tra padri e figli. Quindi per favorire appunto un momento così di ingresso verso il carcere da parte dei bambini che in qualche modo non avvertano le difficoltà, le ristrettezze, la crudeltà, come dicevamo, del carcere attraverso appunto una ludoteca. L'altra iniziativa riguarda un'associazione che è nata di recente, si chiama La Pasqua di Bach, e tra i propositi ha quello di portare la musica appunto all'interno del carcere, promuovere l'ascolto e la pratica musicale. Un'esperienza che è già stata fatta qualche tempo fa portando un'opera di Bach appunto all'interno del carcere di Sollicciano. Infine il terzo caso riguarda l'isola di Gorgona che come sappiamo è un'isola penitenziaria, un caso unico praticamente in Italia, dove i detenuti di giorno possono uscire dalla propria cella perché lavorano, sono dediti all'agricoltura e all'allevamento. Si parla di un formaggio che è prodotto dai detenuti appunto a Gorgona in un progetto che ha come sponsor, pensate, l'Enoteca Pinchiorri, un nome conosciuto non solo in Italia ma in tutto il mondo. Continuando a scorrere le pagine del settimanale troviamo un'intervista, un'intervista a Alessandro Martini che è il direttore della Caritas di Firenze ma da pochi giorni è anche il nuovo delegato regionale delle Caritas della Toscana e in questa intervista racconta quali sono i tanti progetti, le tante attività e iniziative delle Caritas per essere vicini alle persone più bisognose. Si parla ad esempio dell'accoglienza dei profughi e degli immigrati, un tema caldo sicuramente attuale in questo periodo e che ha visto anche negli anni scorsi le Caritas Toscane impegnate davanti alle grandi emergenze ma sono tanti anche i temi ad esempio quello della crisi economica con il microcredito quindi le iniziative a favore per aiutare le famiglie bisognose ma anche progetti ad esempio contro il gioco d'azzardo, la dipendenza da gioco d'azzardo per aiutare ad avere stili di vita migliori e più sostenibili. Ma dice anche Martini la Caritas non è una onlus, spiega quindi che dietro questo impegno sociale non c'è semplicemente uno spirito umanitario ma c'è un'impostazione che viene dalle radici cristiane, le Caritas quindi come braccio operativo in qualche modo delle chiese della Toscana nel campo della carità. Si parlava in questa intervista di gioco d'azzardo, si riprende il tema anche in altre pagine di Toscana Oggi dove si dà conto di questo fenomeno purtroppo preoccupante perché è in aumento ed è quello della cosiddetta malattia da gioco ovviamente da gioco d'azzardo. Ne parliamo affrontando il problema dando alcuni numeri ma anche intervistando un esperto che parla appunto di questo fenomeno cosiddetto della ludopatia e ne soffrono fra l'altro due italiani su cento e poi all'interno di questa stessa pagina dedicata a questo argomento anche un viaggio, un rapido viaggio in una sala slot dove appunto ci sono le slot machine dove si gioca, si racconta di chi sono i giocatori qual è la caratteristica e poi si dice quello che è l'importante nel senso che in queste sale si gioca tanto nel senso si impegnano tanti soldi però non si guadagna nulla perché poi alla fine le vincite sono molto difficili e alla fine cosa si ottiene? Si perde la testa. Ancora un'intervista stavolta parliamo di scuola intervista a Leonardo Alessi che è il presidente regionale della FISM la Federazione delle Scuole Materne Cattoliche dice Alessi le nostre realtà soffrono la diminuzione dei contributi da parte dello Stato eppure dice, afferma fanno risparmiare allo Stato milioni di euro senza le scuole paritarie dice Alessi ci sarebbe meno libertà e meno istruzione fra l'altro anche alcune cifre che danno l'idea dell'importanza delle scuole paritarie sono 345 le scuole paritarie dell'infanzia solo in Toscana e si parla di scuole cattoliche anche nelle pagine fiorentine di Toscana Oggi perché lunedì scorso c'è stata la festa con la messa che ha coinvolto studenti, alunni, insegnanti, genitori delle scuole cattoliche nella Basilica di San Lorenzo che si sono ritrovati intorno a San Giovanni Bosco infatti in quei giorni era a Firenze anche l'urna con la reliquia di Don Bosco rimaniamo sulle pagine di informazione religiosa quelle di Ecclesia sulla parte regionale di Toscana Oggi per segnalare una inchiesta su come cambia la parrocchia se non c'è il prete infatti il titolo è proprio questo se il prete non c'è la risposta sostanzialmente è che i laici pregano ovvero si dà conto di un'esperienza che sta avvenendo in particolare nella diocesi di Massa Carrara Pontremoli dove la diminuzione del clero è forte come in altre realtà ma dove sono presenti numerose comunità disparse in un territorio abbastanza difficile come può essere quello dell'Unigiana in questo senso a Fivizzano e l'Unigiana appunto la diocesi ha risposto attraverso la creazione di una unità pastorale formata pensate da 18 parrocchie con tre sacerdoti, due diaconi e sei ministri della comunione nelle piccole frazioni la domenica si svolge la liturgia della parola e viene distribuita all'eucaristia quindi non c'è la messa completa perché non ci può essere perché i preti a disposizione sono pochi però c'è questa conduzione pastorale ormai ben accettata dalla popolazione l'importante si dice è valorizzare le risorse presenti in ogni comunità si parla di problemi simili anche a Volterra e se ne dà conto in un'intervista che compare sempre in questo paginone di approfondimento sul problema se ne è parlato a Volterra in un convegno diocesano e si è soprattutto discusso su come passare da una chiesa clericalizzata a una chiesa popolo di Dio dunque se non ci sono i sacerdoti in qualche modo le comunità si organizzano valorizzando il ruolo dei naici intanto però fa piacere sapere che a Pisa c'è un record c'è stato un record in questi giorni la chiesa pisana in festa saluta i nuovi sacerdoti ci sono state domenica scorsa le ordinazioni sacerdotali sono stati sei i nuovi preti ed è un numero alto così alto non si vedeva addirittura da 30 anni e invece una sola ordinazione ma anche questo comunque è un momento importante per la diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro lo ritroviamo nelle pagine della Voce appunto l'edizione di Toscana Oggi dove si parla dell'ordinazione di Donaldo nuovo sacerdote secondo l'arcivescovo Fontana un dono di Dio e ritorniamo sulle pagine regionali quelle di Ecclesia che come dicevamo in apertura ospitano anche l'invito al convegno ecclesiale nazionale in programma a Firenze nel 2015 il titolo di questo invito che arriva dal comitato preparatorio è in Gesù Cristo il nuovo umanesimo ovviamente si parla di umanesimo in quanto a Firenze in qualche modo è la culla dell'umanesimo tema che Riccardo viene ripreso anche appunto nelle pagine fiorentine l'osservatore toscano Sì, sulle pagine di Firenze ovviamente si dà conto appunto della pubblicazione di questo documento che poi dovrà accompagnare il cammino e il percorso di tutte le chiese e le diocesi italiane verso l'appuntamento del 2015 ma che ovviamente coinvolge in maniera tutta particolare la chiesa fiorentina e le diocesi toscane un invito dunque che è rivolto a loro in modo particolare in cui si parla proprio dell'umanesimo l'umanesimo cristiano che in qualche modo è nato proprio a Firenze non a caso fra l'altro in questo invito appunto in questo documento c'è un'immagine che fa un po' d'icona per questo percorso che è quella della pietà di Michelangelo non la pietà che tutti ammirano a Roma ma la pietà conservata proprio a Firenze la pietà scolpita dall'anziano scultore da Michelangelo Anziano in cui lui stesso, dicono gli storici dell'arte è rappresentato, ha dato a Nicodemo che sorregge il corpo di Gesù proprio il suo volto il volto dello stesso artista questa dunque l'immagine della pietà conservata nel museo dell'Opera del Duomo a Firenze che fa un po' d'icona per questo percorso a proposito di arte fiorentina se ne parla nelle pagine dell'Osservatore Toscano anche perché in questi giorni è stato presentato il nuovo Evangeliario di Ocesano la raccolta dei Vangeli della Domenica e dei giorni festivi accompagnate dalle immagini dell'arte fiorentina degli artisti fiorentini del passato diciamo dei grandi artisti del passato ma anche quelli del Novecento addirittura artisti contemporanei come Filippo Rossi che è un giovane artista e una sua opera campeggia proprio nella copertina di questo volume tra gli artisti presenti in questo evangelario anche Annigoni e quindi approfittiamo di questo riferimento al grande pittore per segnalare una mostra in corso in questo momento presso la sede della Cassa di Risparmio di Firenze in via Bufalini la mostra Pietro Annigoni presenza di un artista nel venticinquesimo anniversario della scomparsa è praticamente una mostra che mette tutti insieme appassionatamente diciamo in un titolo i ritratti inediti dei VIP rimaniamo in tema culturale ci spostiamo sulla domenica all'inserto della diocesi di San Mignato per segnalare l'avvio delle celebrazioni per il centenario della nascita di Mario Luzzi centenario che ricorrerà il prossimo 2014 essendo nato Luzzi nel 1914 appunto 99 anni fa esattamente il 20 ottobre però è partito proprio l'anno centenario e a San Mignato se ne parla per sottolineare il legame che esisteva proprio tra la città e Mario Luzzi legame ovviamente che lega Luzzi anche a tante altre città della Toscana vogliamo ricordare qui una per tutte a parte Firenze dove è nato è nato a Castello quindi appena fuori Firenze però un legame particolare Luzzi lo aveva con Pienza Pienza in fondo era diventato da tanti anni il suo rifugio da lì poteva godere dalla sua casa in via del bacio poteva godere della vista stupenda della Val d'Orcia fino al monte Amiata abbiamo detto di Annigone abbiamo detto di Mario Luzzi parliamo anche di un altro personaggio molto particolare che è Roberto Guicciardini Corsi Salviati una ampia intervista in cui racconta la sua attività in particolare il suo legame con il borgo di Gargonza il titolo è proprio il conte pioniere del turismo in campagna si parla infatti di come prima ancora che diventasse di moda all'agriturismo diventassero di moda i relais nelle abitazioni nei castelli della Toscana questo nobile fiorentino ebbe l'intuizione di recuperare questo borgo questo castello per farne un luogo di ospitalità di vacanza e di attività e iniziative culturali fra l'altro andando a vedere un po' la storia del castello di Gargonza ci si scopre proprio una vocazione all'ospitalità basta guardare che tra gli ospiti illustri figurano Dante Alighieri che qui trovò riparo durante un suo viaggio di ritorno da Roma e poi invece in epoche più recenti Roberto Benigni che lo ha scelto come ritiro per scrivere i suoi film Benigni che poi è diventato uno dei principali cantori di Dante appunto quindi c'è questo legame anche attraverso questo borgo nei pressi di Monte San Savino ancora un argomento di carattere culturale ma anche come dire religioso lo troviamo sulla prima pagina della Voce di Prato l'inserto della diocesi pratese appunto il genio di Ghiberti in quel reliquiario questo è il titolo si parla di una scoperta una scoperta importante perché un reliquiario che era stato acquistato qualche tempo fa ad un'asta e che poi era stato donato alla diocesi di Prato che fra l'altro lo esporrà proprio nel proprio museo diocesano c'è stato uno studio da parte di Dora Liscia Benporata che attribuisce questo reliquiario pensate niente meno che a Lorenzo Ghiberti ovvero all'autore della porta del paradiso del Battistero di Firenze quindi una scoperta importante che testimonia appunto del valore di questo oggetto di questo reliquiario e che quindi arricchisce in maniera determinante l'arte religiosa di Prato siamo in chiusura di questa rassegna stampa il tempo di ricordare che Toscana Oggi si può trovare sul sito internet toscana oggi.it con la possibilità anche di sfogliare online il settimanale ma è anche ovviamente un settimanale cartaceo e proprio questo è un po' la stagione del rinnovo degli abbonamenti ricordiamo allora che l'abbonamento per il 2014 rimarrà al costo di 48 euro con la possibilità anche di abbonamenti semestrali a 25 euro la possibilità anche di fare un abbonamento amico o un abbonamento sostenitore quindi con cifre più alte che danno diritto anche a omaggi in particolare ad alcune pubblicazioni ad alcuni libri e poi anche la possibilità invece appunto dell'abbonamento online per chi vuole sfogliarlo sul proprio computer o sul tablet o sul telefonino nella campagna promozionale di quest'anno ricordiamo che 48 euro possono sembrare anche tanti soprattutto in epoca e momenti di crisi come questo però diciamo anche che basta fare qualche raffronto e lo stiamo facendo appunto nella campagna promozionale 48 euro l'anno non sono nemmeno un caffè alla settimana non sono nemmeno un pieno di benzina all'anno non se ne parla per due che cenano a un ristorante oppure anche per le signore nemmeno un taglio e una piega dal parrucchiere quindi con questo appello al rinnovo dell'abbonamento e anche a voler conoscere più direttamente Toscana Oggi attraverso anche il proprio sito vi ringraziamo per l'ascolto e come sempre appuntamento alla prossima settimana a Grazie a tutti.